Se non fai un cazzo quando sei lì e poi ti fai sei mesi senza neanche... Si, ho un moditico ancora. Ora mi toccare c'è? Che sono lui c'è, ce le altre. C'è l'olio, eh? No, no, perché? Che è un pazzo, te lo�나? La mia produzione è per cornice non mancanico, ma non樣e. Non ascezione a tutti. E mi piace, non andiamo alicans perché si può fare l'olio... ...erò che loro vengono. E non è così come vengono. E non è così come l'olio. È un cartone, ma è un cartone. E non è così come la pace, ma è un cartone. Per un'altra cosa che fanno, non è così, non è così. E poi prendiamo la stessa. il problema è che l'acqua è fredda poi ma ancora più voli vengi? allora devi vedere il carro che è la sua va bene, facciamo male Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.